L'ampia fascia collinare a ridosso del mare ha permesso lo sviluppo delle coltivazioni di vigneti e di uliveti, la produzione di vini e olio di oliva, il Sangiovese, il Bianchello del Metauro nel Pesarese, il Verdicchio dei Castelli di Giesi, il Rosso Conero d'Ancona, nel Maceratese il Bianco dei Colli, il Verdicchio di Matelica, la Vernaccia di Serra Petrona, nell'Ascolano il Rosso Piceno Superiore e il Falerio, per poi arrivare a Cartoceto nei pressi di Fano, per la mostra mercato dell'olio d'oliva, fino a giungere a Sant'Angelo Invado, per assaggiare il tartufo pregiato. In queste produzioni grande rilievo hanno le aziende agrituristiche, che uniscono alla coltivazione diretta l'offerta di alimenti tipici genuini, le sagre di paese dove si possono apprezzare i prodotti tradizionali, tra i quali i vincisgrassi, il fritto a scolano, la porchetta di maiale, i salumi fabrianesi, il formaggio di fosse e il tartufo bianco di acqualagna, per un'unica esaltazione dei valori della cucina marchigiana.